La partenza di Quadrato, con tutti gli scusanti del caso, perché è un grande giocatore, non abbia un certo senso, tra virgolette, giovato. Una squadra che ha trovato una certa quadratura, un certo equilibrio, devo dire, complimenti. Grazie. Oggi la squadra ha giocato anche in maniera armoniosa, ma devo dire che anche con il cielo Quadrato la squadra ha ottenuto questi risultati, quindi abbiamo già parlato di Quadrato, credo sia più importante adesso parlare della squadra. La squadra ha dimostrato maturità contro un avversario organizzato, secondo me è un'ottima squadra e vive un ottimo momento, bella allenata, ma la Fiorentina oggi ha dimostrato di essere superiore in campo e ne ha legittimato la vittoria, ma mi è piaciuto soprattutto alla maturità con cui i giocatori sono scesi in campo anche nelle singole interpretazioni, oltre che da squadra, quindi da parte mia c'è orgoglio, c'è qualche problemino piacevole in più, cosa che ha voluto essere la squadra una vigilia e quindi sono particolarmente orgoglioso di questa prestazione, di questo atteggiamento di oggi, in questo momento, contro questo avversario che era tutto molto difficile.